E' terminata la partita valida per l'accesso alle finali nazionali allievi che ha vinto a scontrarsi Cornaredo e Asti Calcio 5. Qua con noi Luca, mentre vediamo le azioni del Cornaredo e le altre della partita chiedemoli un commento su questa gara. Penso che abbiamo giocato una buona partita nonostante il risultato. Questa è una squadra molto forte che aveva la prima squadra in Serie A faceva non c'era la palla molto bene, noi a parte poche disattenzioni abbiamo giocato bene, abbiamo difeso bene, quindi tutto sommato non abbiamo giocato male. Grazie Luca, ci vediamo le prossime partite. Ciao, ciao. Ed ora passiamo alla parola ai giocatori dell'Asti, è qua con noi uno dei marcatori della giornata con ben tre reti, mentre le vediamo chiedemoli un commento su questa loro vittoria. E' una bella vittoria, siamo riusciti a portare a casa questa partita anche con un buon puntello e quindi speriamo di andare avanti così. E cosa ti aspetti da questa competizione? Puntate alla vittoria finale oppure... Sì, puntiamo ad arrivare fino alla Final Four poi in Abruzzo e ci manca ancora questa partita con la Sardegna, speriamo che vada bene. Ok, ti ringrazio, bocca al lupo per il proseguo di questa competizione. Grazie, ciao. Grazie. Grazie.